Ingredienti Dosi per 4 persone 500 grammi di trenette Una mela 25 grammi di burro 50 grammi di parmigiano grattugiato Un bicchiere di latte Un bicchierino di brandy Una cipolla Sale Preparazione Far appassire nel burro la cipolla tritata Unire la mela sbucciata e tagliata a dadini Spruzzare con il brandy Spolverizzare di farina Ridurre in puree e versare il latte Far cuocere per 5 minuti Unire il parmigiano e far addensare Cuocere le trenette al dente in acqua salata Condirle con la salsa preparata e servire Il piatto è pronto Buon appetito!